Inizio, 2, 1, inizio e inizio! Lascio a delle recensioni nella media, lo andiamo a provare, è il secondo capitolo appunto della serie Hello Neighbor, dove nel primo dovevamo entrare di nascosto in casa del nostro vicino per scoprirne i segreti, dovevamo muoverci stealth, ora vi faccio vedere l'inizio del 2, dove la situazione si complica, io adesso so già più o meno cosa fare, e quindi vi faccio vedere un pochino le meccaniche nel caso in cui abbiate qualche dubbio di come questo gioco funziona. In sintesi ci troviamo in un'area più ampia rispetto all'1, cioè un intero quartiere di una piccola città, e lì sono scomparsi tutti i bambini, quindi dobbiamo capire che cosa c'è dietro questo mistero. E quindi cominciamo usando una serie di tool davvero molto molto particolari, la prima cosa che prenderemo e useremo sarà un drone fotocamera, ma adesso vi faccio vedere la intro, intro che è interessantissima perché prima ci mostra che cosa sta succedendo nel cespuglio dove non c'è assolutamente nulla, ma subito dopo troviamo questo. Questo è il vicino di Hello Neighbor 1 e vediamo che sta rinchiudendo un bambino all'interno, ma questa è una scena inquietante perché usiamo una chiave di una macchina come quella di una porta, però vabbè. E andiamo via, ma via non andiamo per molto perché finiamo qui dentro. E all'interno di questo fienile entriamo in contatto con le meccaniche di gioco, dove praticamente qua abbiamo una leva da tirare con degli ingranaggi, una zona inaccessibile che però ci indica quale utensile ci serve per lo sbloccaggio, una chiave, quindi la raccolta oggetti, col tasto tab apriamo l'inventario, possiamo tenerne in mano uno alla volta, apriamo il lucchetto, la chiave viene consumata, apriamo il portone e c'è un ingranaggio, ingranaggio che sicuramente l'ho messo qui, in quanto cliccando col destro vedete che ci servono tutti per poterli attivare. In questo caso troviamo anche un piede di porco che usiamo subito per aprire la cassa, la cassa contiene delle rocce, col tasto destro possiamo lanciare e lanciamo addosso alla vetrina e prendiamo l'ingranaggio. Ok, abbiamo preso l'ingranaggio, lo mettiamo subito qui, tasto sinistro e sempre col piede di porco accediamo dove prima non riuscivamo ad entrare. Ci abbassiamo, saltiamo, così prendiamo anche confidenza con i tasti di gioco, possiamo salire la scala o saltare addirittura e arrampicarci in cima e in cima qui praticamente prendiamo l'ultimo ingranaggio, torniamo indietro sul furgone dove abbiamo sfondato la parete, mettiamo l'ultimo pezzo che è quello rosso, attiviamo e ce ne andiamo. E il gioco parte in questo momento. Partiamo più o meno per modo di dire perché il tizio ci aspettava e decide di portarci via la fotocamera con cui abbiamo scattato delle foto, vediamo che siamo della stampa e qua finisce la fase iniziale. Ora si riparte da il nostro covo, il nostro covo ha delle telecamere piazzate sul tetto che riprendono tutto il vicinato e cercheremo di rispondere, di risolvere i misteri rispondendo a tante domande. Questo siamo noi e praticamente, adesso vedete che gli schermi si accendono e vediamo quello che stanno riprendendo. Allora praticamente, prendiamo gli oggetti che questa fotocamera, che se la usiamo ci fa scattare una foto, ma in questo caso non possiamo scattarla perché ci serve il darone. Il darone lo possiamo piazzare e volerà in giro per noi. Qui sono le telecamere, qui ci sono... c'è un computer, c'è... Vedi, vedete, simming, missing, ci sono tutti questi, diciamo, anagrammi degli avvisi, non so perché non si possa magari scrivere missing, anche c'è, all'interno della città c'è là in fondo il museo ed è scritto anagrammato il nome. Comunque, saltando qua in cima, adesso non ve lo farò vedere, lì in alto vedete la grossa parabola con tutte le telecamere che puntano su svariati punti della città. Io so già cosa fare all'inizio, poi ovviamente dovrò andare avanti, ho ricominciato la partita appunto per farvi vedere il video. Allora, noi ci troviamo di fronte alla casa, questa casa qui, che è la prima che è esplorabile, a parte quella sull'albero, che non è però al momento accessibile. Vedete che lì fuori c'è un tizio, io con la Q metto via il darone, vedete che quello è un poliziotto, se ci becca, ci stende e ripartiamo, diciamo, dall'altro lato della strada. Ovviamente lui poi partirà come in Hello Neighbor 1, un pochino prevenuto verso noi, ci aspetterà. Vedete anche qua, pos, cioè tutto fatto in un modo poco così. Allora, praticamente noi adesso entriamo in casa e iniziamo a scoprire che cosa ha da nascondere. Lui si aggira nervosamente all'esterno, cercheremo di non farci beccare, soprattutto camminando piano, sapendo di avere il tempo abbastanza limitato. Quello che possiamo, che posso dirvi, che so già, è che praticamente qua sopra iniziamo a vedere dei dettagli, delle piccole cose da prendere. Se prendiamo le misure, vedete che qua dietro dovrebbe trovarsi quella, infatti, vedete che si vede lì, possiamo saltare qua sopra, apparire qui ed entrare. Quello che vediamo all'interno è una statuetta che magari ci servirà pure e c'è una mappa, una mappa che noi siamo qui, dobbiamo andare di fronte alla casa sull'albero, quindi lì sicuramente ci sarà qualcosa. Ma non è finita qui, perché uno dei grossi ostacoli, spero non entri adesso, uno dei grossi ostacoli di questo gioco all'inizio è il poter tagliare. Ci servirà una forbice, quindi cercheremo di ottenerla. Qua abbiamo una cassaforte con dei numeri in giro. Poi questo io ci sono andato in intuito, non ho letto guide, ma andando in giro ad esplorare scoprirete che per la casa ci sono numerosi dadi. Vedete questo è un 9 o un 6, il 4 era di là, ne troverete altre in giro. Qui c'è, dietro il piatto c'è un 4, quindi iniziate un pochino a capire che qualcosa sotto c'è. Insomma, io spero non entri adesso, perché il tipo se dovesse entrare adesso mi becca. E sentirete le porte, la porta a sbattere, è probabilmente anche entrato adesso, quindi cerco di nascondermi. Ci si può nascondere anche negli amadi. Che lui comunque non starà fuori tutto il tempo, quindi bisognerà evitare di farsi vedere. E una volta che lui entra in casa, inizierà a richiudere e sistemare tutte le cose che avevamo spostato. Eccolo, forse arriva. Ho sentito camminare forse. Qualche movimento c'è. Io ho paura a scendere. Perché poi vi prenderete degli autentici colpi. Quando vi sbuca da dietro all'angolo e vi prende, quindi... Il problema è che più aspetto qua, più lui non arriva, più io sono tentato a scendere e lui poi arriva. Allora abbiamo trovato un 9, un 4, un 8... Mancherebbe un... È entrato. O è ancora fuori, ma... Comunque vedete lì c'è il 4, l'8 era di là. È entrato adesso. Poi vi potete anche nascondere nell'armadio, insomma. No, non è entrato. Vabbè ragazzi, comunque... Quello che ho scoperto è che... 1, 9, 8, 4... Prendiamo la chiave. Merda. Merda. M'ha visto? No, non m'ha visto. Forse non m'ha visto. È entrato adesso. La chiave io non mi ricordo cosa apre. Però credo che lui ora stia vagando, cercando cose che non... Che non gli tornano. Boh, vado a vedere. Ma secondo me... No, forse è uscito. La chiave io, mannaggia, non mi ricordo dove va. Ma in compenso so già dove andare. Perché... Allora, la chiave no, lo so benissimo dove va. E la chiave va qui. Perché vedete che lui adesso ha questa porta... Beh, dai lì. Vedete quella porta? Ha tutti i lucchetti chiusi. Quindi, lui sicuramente nasconde qualcosa nel sottotterraneo. Quindi, servirà trovare 4 lucchetti. Per poterci finire, diciamo, questo, chiamiamolo così, livello. Quindi, noi una chiave l'abbiamo. Dovrei eliminarla dall'inventario usandola. Però, al momento, preferisco farlo dopo. Quando lui magari esce, sia un po' ridassato. E calcolate che rispetto all'altra volta che ho giocato, si è comportato in modo completamente diverso. Quindi, molto, molto interessante come meccanica. Allora, lì non c'è la scala. Questo ve lo dico, lo so già, così non vi faccio vedere che mi perdo via. Tuttavia, con questo, noterete subito che potete salire direttamente qui. E qui c'è un'altra mecca... Merd, sono morto. Quando morite, ripartite da qui. Avete ancora i vostri oggetti. Credo che ve li tolga solo se vi becca. Comunque, sono stato un pirla. Torniamo indietro. Risalgo sopra qui. Cos'è? Un microfono? Un tasca? Va bene. Ok, adesso ci riproviamo. Ok. Poi, dovete iniziare a ragionare come ragiona il gioco. Nel senso che arrivate qui, vedete che c'è questo trenino che va. E c'è la forbice qua all'interno. Ma ovviamente, voi non potete allungare la mano e prenderla. No, troppo facile. Dovete farvela spingere fuori dal treno, attivando questo scambio. Quindi, che fate? Qua dentro dice che serve qualcosa. Quindi noi apriamo questo. Prendiamo la mano. La posizioniamo qui. Ma non succede nulla. Perché? Perché dobbiamo ripetere questo disegno. Lui tiene lo scudo in basso. Quindi gli faccio muovere lo scudo come dovrebbe essere. Credo più così. Ok. E la spada su. E quando sarà completa, potremo prendere la manopola. La manopola la mettiamo qui. Attiviamo la variazione del percorso del treno. E lui arriverà qui spingendo fuori le nostre forbici. Perfetto. Assurda come cosa, no? Vabbè. Intanto, vedete, abbiamo risolto questa cosa. Ora, il problema è che Dobbiamo andare prima di tutto a mettere la La chiave nel suo posto. Ma più che altro Io voglio capire Se il tipo è ancora lì Guarda, sta arrivando Mi ha visto, mi ha visto, mi ha visto, mi ha visto Me ne vado Però, intanto, lui adesso è distratto. Quindi, tecnicamente Poi, è intelligente Ma vediamo a un certo punto Io mi muovo zitto, zitto Mi muovo furtivo, furtivo E mi apropinco Al piano di sopra Sperando che non entri ora Comunque, non vi ho fatto vedere Vi potete anche nascondere all'interno Degli ramadi In questo caso, noi possiamo andare al piano di sopra Cercando di mettere Di cercare la seconda chiave In questo caso Vedete, qua manca qualcosa E ogni cosa è buona Per avere, magari Un indizio Qua manca qualcosa pure qui C'è un quadro da completare Merda, c'è la sveglia La sveglia serve Perché La fate suonare E distrarete il tizio Che il tizio Tecnicamente non dovrebbe venire di sopra Ma improvvisamente potreste ritrovarvelo alle spalle Fate suonata la sveglia Prendo il piede di porco E apro la cassa All'interno trovo una foto Metto via Vedete che non ho più posto Quindi cerco di buttare qualcosa La chiave Dovrei andare a metterla via Quindi me la equipaggio E vado a metterla nella toppa giusta Sperando che lui non entri in questo momento Così che Vedete questa è Stanza inquietante Andiamo ad aprire il primo lucchetto Perfetto Lui intanto è fuori Che osserva la situazione Sicuramente quando entrerà da quella porta E vedrà che è stato tagliato il nastro Verrà a cercarci di sopra Quindi dovremmo fare attenzione In primis Qua sembra che Cosa è questo? Perché praticamente noi possiamo lanciare il drone Io posso lanciare il drone anche dall'esterno E posso fare La foto con questo Quindi io vedo questo E faccio la foto E posso muoverlo Però Adesso ho trovato anche questo qua verde Mi chiedo cosa sia No È probabilmente qualcosa che dovremmo ancora usare Comunque fammelo mettere via Il drone lo useremo Adesso Devo prendere Mannaggia Dove cavolo è? Là in fondo Devo prendere questo Il pezzo della Della fotografia E vado a metterlo Al suo posto Quindi il primo puzzle da completare Che è qui Vedete che inizio a compilare Qui praticamente Questa è la casa del nostro vicino Ma sotto c'è un poliziotto Che sta facendo un po' Allora io potrei Prendere No non voglio questo Il pupazzo del vicino Non so che far Bene Prendo questo E vado a mettere il drone Sulle scale Così tengo l'occhio Se arriva qualcuno Ok Va bene Mettiamo via Qua vedete che c'è Un interruttore Da disattivare Che probabilmente Adesso è qui Quindi prendo questa La metto qui No non voglio questo Scusate Metto via Tiro giù Ecco Prendo il piede di porco E prendo anche questo Quindi questo Che cacchio Questa la posso lanciare E in realtà Credo che non sia Il Credo sia qualcosa Da Da utilizzare in giro Qualche oggettino Qua c'è una sveglia Fammi un po' vedere Se sta mica arrivando No fammi vedere E lì fuori Tra l'altro Non è casa sua Quindi è un poliziotto Ha recintato l'aria Quindi Non è detto che Io onestamente Ho giocato all'uno Ma pochissimo Ci avevo fatto Forse anche un video Non mi ricordo Se è questa La casa del vicino Ma mi pare di sì Comunque qua Noi dovremo Continuare Ad esplorare E cercare indizi Per poter proseguire E trovare Tutti Tutti I lucchetti Qua c'è una casa Una Una porta chiusa C'è qualcosa Qui che manca Una batteria Probabilmente Che attiverà Una leva Quindi devo cercare La batteria Poi si fa anche Un po' di Backtracking Chi è che ha fatto Cazzo No Ho sentito Ah Ho calpestato io Questo Questo è bellissimo Come cosa C'è l'icalpestato E fate casino Infatti Bisogna fare attenzione Perché Il salire in cima A qualcosa Può Farci trovare O non trovare Dei passaggi segreti O Qualcosa Che magari È nascosto Qualche parte Comunque qua Io non trovo niente Eccola qua No Qua non c'è niente No Erano i nastri Sembra una batteria Comunque Qualche punto Qualcosina Insomma Quindi Qua si va Avanti Ragazzi Io Aspettate Taglio questo Metto via Merda Dovete fare attenzione A non lanciarla Perché col tasto Adesso lanciate le cose Adesso io Troppa roba Però Devo buttare qualcosa Butterò Questo Ok In questo qua Non so se mi servirà Un domani o meno Quindi Se poi avete giocato E spolpato l'uno Fatemi sapere Perché sono veramente curioso Qua c'è qualcosa Serve una forbice Ancora Vedete che a ogni angolo Nasconde qualcosina Quindi Con la forbice Si taglia E qua serve una pila Cioè qua abbiamo Una pila Che posso togliere Col piede di porco No 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 Fatemi mettere via Non saprei con cosa Toglierlo Con la forbice Forse Ah si Perfetto Ah non posso Perché devo mollare qualcosa Quindi prendo questo Lo butto lì Mi prendo la pila La pila La vado a mettere Dove mi serve Nell'altra stanza E beh Stiamo risolvendo Pian piano anche questa Aia Sì va bene Mettila lì Tira la leva La macchinina va E quindi Ah mi ha recuperato qualcosa Una chiave Una chiave Che è un'altra chiave Per aprire Il Lucchetto sopra Immagino Il tipo Tanto è Nella Nel giardino Quindi si è Probabilmente Incantato lì Quindi noi abbiamo Un secondo lucchetto Ok abbiamo aperto Già due lucchetti Su quattro Quindi molto bene Direi Non so Direi se ci sia Altro Anche Ancora qui in casa Ma può Benissimo essere Ma Il video finisce qui Ragazzi Fatemi sapere Che ne pensate Di questo Hello Neighbor 2 E noi ci sentiamo In un prossimo Video Gameplay Alla prossima E ciao ciao Ciao